Questi due edifici si guardano, sono due città, la città ricostruita, palazzi bellissimi per lo più vuoti o in vendita, qualcuno abitato con le finestre perennemente chiuse per la polvere dei cantieri che si infiltra ovunque. Decade, città possibili, è una performance artistica curata dal Circolo Bergman e dall'Associazione Arti e Spettacolo che ha sede a San Demetrio dei Vestiti al Teatro D'Omber per la Pace. Le associazioni realizzeranno un percorso per gruppi di 30 spettatori che cammineranno per la città con delle cuffie wireless dove le persone potranno ascoltare testi, suoni e suggestioni. Sì, noi usiamo sempre anche, sperimentiamo nuove tecnologie, questa è una tecnologia che usa molto, l'abbiamo scelto questo collettivo sia per la loro qualità ma anche perché fanno questo lavoro con le cuffie in wireless, per cui camminando in dei luoghi tu vieni circondato dalle voci, dal racconto, dalle musiche che questi luoghi hanno prodotto, perché sono stati qui diverso tempo, hanno fatto interviste, hanno indagato e alla fine sono riusciti a costruire questo possibile percorso che la città potrà avere nel suo futuro. Il progetto, nato da una serie di interventi con residenti, professionisti e operai, proporranno agli spettatori un percorso urbano che avrà lo scopo di interrogarsi sui processi di rigenerazione urbana, sociale, di progettazione immateriale e di spazi relazionali che ci riguardano a tutti. Noi in questi anni abbiamo affrontato spesso con le nostre produzioni i problemi che la città stava vivendo, una volta abbiamo affrontato i temi dei cittadini, a volte delle città che muoiono perché si correva il pericolo che non risorgesse nulla, questa volta abbiamo chiamato il collettivo Bergman, che è una compagnia specializzata in size specific che lavora molto nel nord Italia e con loro abbiamo deciso di tirarci fuori da questa partecipazione emotiva che noi abbiamo, essendo degli operatori culturali che si muovono in questo territorio da dieci anni e abbiamo affidato a loro proprio il senso di questa città quale dovrà essere. Infatti loro hanno trovato questo titolo, Decade, città possibili, cioè le varie possibilità che questa città può avere e ha per rinascere. Allora noi avremo due spettacoli venerdì, quattro sabato, due domenica e le prenotazioni sono presso la libreria Polarville, via Castello, che è anche il luogo da cui partono gli spettacoli.